Buongiorno I lì per lavori un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo in direzione Mare e tra Impoli Est e Montelupo in direzione Firenze È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio